Onore, onore a Maurizio Sarri che si aggiudica il primo trofeo importante della carriera. Il Chelsea batte 4-1 l'Arsenal nel derby londinese, valevole per la finale di Europa League. Insomma, davvero un grande Chelsea, un Chelsea straripante, devastante, soprattutto nel secondo tempo, una partita giocata in crescendo da parte dei Blues, visto che comunque nel primo tempo erano stati piuttosto schiacciati dall'Arsenal. È un Arsenal che aveva preso il sopravvento nella prima frazione, soprattutto momenti di difficoltà per il Chelsea nei primi 20 minuti, con l'Arsenal comunque continuamente alla ricerca del vantaggio. Secondo me comunque questa squadra l'ha persa un po' a livello caratteriale e soprattutto comunque peccando nella fase difensiva, perché dopo aver preso il primo gol è parso comunque evidente che l'Arsenal non abbia reagito. Un Arsenal che si sia comunque troppo schiacciato a livello difensivo, un Arsenal che ha concesso troppo a livello difensivo e non vorrei che questo problema fosse proprio per l'allenatore Unai Emery, perché comunque qualche limite ce l'aveva già mostrato quando allenava il Paris Saint-Germain, qualche limite caratteriale della propria squadra. Forse è l'allenatore che non riesce comunque a trasmettere tutta questa grinta ai suoi giocatori, forse è quello anche il problema delle squadre di Emery. Poi certo, onore a lui, ha vinto 3 Europa League con il Sevilla, però insomma l'avevamo visto anche al Paris Saint-Germain, comunque sul 6-1 con il Barcellona qualche limite a livello di grinta dei propri giocatori e di attaccamento alla partita, perché ieri sera è sembrato che l'Arsenal si sia sciolto un po' troppo veloce, si sia un po' lasciato andare e senza reazione ha favorito poi il Chelsea, che segna con una doppietta di Hazard che incanta davvero Baku con due gol e un assist nella sua ultima partita al Chelsea. L'ho annunciato ieri sera all'ora di cambiare aria, probabilmente per lui sirene dal Real Madrid, andrà alla corte dei Blancos, ma fatto sta si lascia davvero alla grandissima con il Chelsea, trascinandolo alla vittoria di questa seconda Europa League della storia, dopo quella 2013, ad Amsterdam conquistata sotto la guida di Rafa Benitez. Poi segna anche Giroud con un grandissimo gol contro il suo passato e per l'Arsenal segna soltanto i Wobby per il momentaneo 3-1, invece per l'altro gol per il Chelsea è quello di Pedro, insomma davvero... E tra l'altro onore anche, perché ieri sera si è ritirato un giocatore importante, sia per la storia dell'Arsenal, ma soprattutto per la storia del Chelsea, di cui sarà anche dirigente, ossia il portiere Peter Cech, e insomma è quasi un peccato per lui anche concludere la carriera con la medaglia d'argento, però insomma ieri sera se la meritava il Chelsea, un'Europa League ampiamente meritata, soprattutto per il lavoro che ha fatto Maurizio Sarri dall'inizio della stagione ad adesso, davvero ha rivoluzionato il Chelsea sul piano del gioco con giocatori che comunque alla fine non sono dei fenomeni, probabilmente comunque dopo questo trionfo Maurizio Sarri resterà al Chelsea, sarebbe una follia comunque non restasse al Chelsea, perché dopo un terzo posto, dopo una finale di Carabao Cup persa ai rigori, dopo una finale di Europa League vinta al primo anno, cioè caro Abramovic, e tientelo Sarri, tientelo, perché dopo una stagione del genere non puoi mandare via Sarri, non lo puoi mandare via, perché è già dimostrato di essere davvero un grande allenatore, e io l'ho sempre stimato, anche quando ero a Napoli, perché io sono convinto che Sarri, secondo me, tira fuori tutti gli attributi che ha dalla sua squadra, e la fa esprimere al massimo, poi avrà anche limiti, farà poca rotazione a livello di Parco Rosa, però insomma ragazzi, insomma, non si può contestare un allenatore come Maurizio Sarri, a livello di spettacolo, del gioco espresso dalle sue squadre, ma proprio a livello anche di come si sta esprimendo all'estero con questo Chelsea, perché ragazzi, insomma, sta già dimostrando di essere un grande allenatore Maurizio Sarri, e io l'ho sempre stimato, alla fine sono arrivati anche i risultati, il trofeo a darmi, a dare ragione a tutti, comunque gli stimatori di Sarri, e a dare ragione allo stesso Maurizio Sarri, e mi fa tanto piacere, perché dopo tanta gavetta questo allenatore è arrivato ad alti livelli, quindi se lo merita davvero questo, se lo merita tutto Maurizio Sarri, e insomma, io non credo che vada alla Juve, ma credo che rimanga ormai al Chelsea, soprattutto anche per le parole dei suoi giocatori ieri sera, che pare comunque che siano molto legate all'allenatore, e comunque che l'allenatore abbia creato un gruppo, quindi sono più propenso a credere che Maurizio Sarri resti al Chelsea, comunque grande Chelsea, grande Sarri, complimenti a Sarri, l'Arsenal appunto paga la mancata reazione dopo l'1-0, però è un'Europa League meritata, del tutto meritata, per questo Chelsea, che ha dimostrato comunque di volerla, soprattutto da come è rientrata in campo nel secondo tempo, quando ho alzato il ritmo del proprio gioco, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, invece lasciate una volante se mi piace al video, condividete questo video e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, tra l'altro ragazzi se non lo sapete Sarri sta praticamente originario, sì di Napoli, però era residente quando allenava l'Empoli e anche prima di allenare l'Empoli era residente a 10-15 km da casa mia, quindi insomma è un allenatore che mi sta particolarmente simbile, e anche per quello mi sono dilungato anche troppo ma come sempre e arrivederci ragazzi al prossimo video Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori